Ti ringrazio, ragazzi, buona manifestazione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Eh, ma tu lo sapevi che c'era un'informazione che ci dava sul web dove si parlava che non ci dovevano essere bandiere di partito, simboli politici? Sì, ci sono, ma in teoria la manifestazione è degli indignati verso la politica, verso le banche, verso i sistemi totalitari, ma non sto dicendo che non dobbiamo essere tutti uguali. Io sto dicendo che era una manifestazione libera da simbologia e invece mi trovo qui... Eh, ma doveva avere rispetto? Non dico che non doveva essere qui, doveva essere qui senza... Non è una giustificazione rovinare una manifestazione di altri... E' di tutti questa! Eh, lo so, ma così fa vedere che è solo la sua! Questo è il principio, diciamo, cardine di questa manifestazione, secondo me... Potrei anche sbagliare io, ma non credo... Ma che molti non l'hanno capita? Non l'hanno capita perché la gente purtroppo è strumentalizzata alla base... Alla fonte è strumentalizzata... ..!!!! No, ma possiamo sbagliare io! La notte è strumentalizzata... La notte è strumentalizzata... No, ho fatto un po' di salire... No, una notte la notte è strumentalizzata... Sì, a tu la notte la notte! No... Sì, la notte la notte! Sembra di fiena di bene... Non scusate! No, non ci dominio la notte è strumentalizzata... Mi chiede la notte la notte! Ossate... E che farbbe questo? No, ma tu è il telefono la notte! Sì, la notte la notte è strumentalizzata... Oh me giro eh, che dietro è meglio Ah si? Eh dai eh Gira, si gira Vabbè lo sei, questo mi piace Lui è l'unica persona che finora ha incontrato che ha capito il senso della manifestazione Oggi qui dovevamo venire tutti vestiti così e non con simboli di partite e bandiere di partito Perché noi oggi siamo contro il partito, contro Banca Italia, contro tutte le forme di repressione dei governi E lui l'ha capito E contro tutte le scelte economiche fatte di voi Tutte le scelte economiche, sentite questa è la verità perché dovevamo stare qua oggi Non come vedi lì Questa è un business 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Hanno diritto pure loro, ma potrebbero presentarsi senza bandiera, perché questa è pubblicità che fanno loro, questa è solo pubblicità per loro. Perché loro non è che cercano una soluzione reale, loro vogliono accomodarsi sulle poltrone come stanno facendo quelli che c'è stata adesso. E non capiscono che facendo questa cassata di venire qua con le bandiere che avranno l'intenzione della situazione. I sindacati, i sindacati, i partiti e i partiti... Mi hanno fatto deluso, sono ancora più indignato. Spessore indipendente. Eh, spessore indipendente. Andiamo o no? Spessore indipendente. Spessore indipendente. Andiamo a mezzo indipendente. Andiamo, se a fare... Dove sta roba? Oggi giornata di soffero precario. Oggi 15 ottobre. Giornata di conflitto non solamente in Italia, ma in tutto il mondo. E oggi torniamo nelle piazze con il movimento globale per dire il lavoro, le politiche... Qua, qua, qua. Questo è il nostro... Questo è il nostro corteo. Andiamo per questo corteo a riprendersi quello che ci spetta, sapendo che nessuno può rappresentarci in questo spazio. E quindi andiamo ancora insieme. Non ci rappresenta nessuno! Non ci rappresenta nessuno! Non ci rappresenta nessuno! Non ci rappresenta nessuno! Questo è... Se fosse stata tutta così la manifestazione, allora che so. Però se fosse stata da queste bandiere, me la provo a seguire. E non c'entravo nulla con cazzo, non l'ho messo in mezzo. Lavorare stancho, quella è bellissima. Iscriviti tilоп reefs. Non c'entravo nulla coninformazione. Allora, la graccia cazzo! Noc etc. Avevano puliti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.